Lo so. Avrei dovuto mandarti via, farti le valigie. L'ho promesso a Stefan. Lo so. Sei asservita a me, Elena. Quindi tutto quello che pensi di provare potrebbe non essere vero. Lo so, Damon, ma... a me sembra così reale. E non sono pronta a rinunciarci. Ti potrei costringere. Se voglio, posso spezzare il vincolo. E allora fallo. Io... Gli ho detto che ti avrei liberata. Subito dopo avergli nascosto dell'altra notte. Quindi che cosa vuoi fare? Voglio accompagnarti nel mio letto e tenerti con me per sempre. E allora fallo. Salvati dal telefono. Devo incontrare Bonnie. Sta insegnando a Jeremy a non uccidermi. Vuoi venire? Oh 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 I do Grazie a tutti.